spettacolo bella raga oh cavallino oh che bellino bella raga oggi siamo tornati con la serie del geocaching le ultime due puntate sono state vittoriose vediamo se anche questa sarà altrettanto oggi siamo dalle parti di Imola e stiamo andando verso un punto che ho segnato prima adesso non lo so bella madonna c'è gente con i soldi qua oggi ho più orientamento del solito semplicemente perché ho il navigatore nell'interfono interfono nuovo raga adesso non vorrei dire ma non so se lo vedete comunque vi lascio anche il link in descrizione se vi interessa il mio interfono è abbastanza buono vabbè raga adesso adesso cerchiamo sto geocachers e niente oggi prima ho chiesto ai miei amici se qualcuno mi accompagnava in questa avventura ma mi hanno appaccato tutta attenzione tra 600 metri svolta a sinistra va bene speriamo di non incontrare troppe strade bianche oggi questo non è un buon pronostico però confidiamo nelle strade della campagna emolese come tra 400 metri la mia destinazione si troverà sulla sinistra scusami questo no è ancora più avanti questo che cos'è area di rispetto di vieto di caccia vediamo un po' salve guardate da quel boschettino rosso mi dice che è proprio qui apriamolo dall'app qua mi dice che è un bel po' più in là invece cazzo fammi vedere la description allure descrizione facile cache sui colli molesi via goccianello è una stretta via asfaltata da bla 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 la cache si trova nei pressi della ex chiesa che domina la zona dall'alto di una collina e allora quella chiesa là torniamo indietro ok ok va bene allora è qua dalla chiesella andiamo alla chiesella raga raga anche oggi si vince anche oggi è una win io qui dentro posso entrarci o no ah ma va ma raga ma ma non posso mai andare lì come cazzo ci vado lì ah però aspetta no mi stanno chiamando raga incredibile vediamo se riesco a rispondere con con questo pronto ciao slipa sono in moto figa mi dice che è qui tipo allora raga scusate ero al telefono con la Giulia e il problema qua ho fatto anche la strada qui a piedi un paio di volte ma il segnalino è messo di merda e c'era scritto che che la cache era dalle parti della chiesa ma la chiesa è lassù e non ci si arriva vediamo se ci si arriva l'alto qua questo chi è privato mi sa no ma questo è privato c'è tutta la roba no non ci si arriva l'alto qua raga ci si arriva dal di là però la chiesa è chiusa arco due fallito fallito raga partiamo malissimo proviamo ad andare a quest'altro monte frassineto descrizione proviamo ad andare qua proviamo ad andare qua diciamo che cerco di fare in ogni episodio due cache no bello comunque qua raga proviamo a scendere di qui con la Duke secondo voi cosa succede? da che parte devo andare più che altro? di là o di là? incredibile anche con il navigatore sbaglio tutto porca troppa che cazzo vuol dire? di là? si di là ok ok ci siamo andiamo sinistra oddio madonna mi ammazzo e la mia destinazione si troverà sulla destra? ma davvero no aspetta 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 era quello lì? no dai dimmi che non era quello ma raga ma dai ragazzi un metro ma come un metro raga indizio un bell'albero questo è un bell'albero pazzesco raga adesso qua dietro sono due tipi e adesso diranno questo che è matto però vecchio guarda cosa c'è qua sei sporchino eh c'è un regalino raga un pomodoro e una bambolina vediamo un po' spammiamoci come al solito tac youtube elia randi bello vecchio ci sono quelli là che stanno commentando quello che sto facendo adesso lo rimettiamo qui e poi come al solito ragazzuoli si rimette a posto ecco qua bella raga quindi l'abbiamo vinta oggi vedi una su due che è meglio che niente quindi ragazzuoli direi che per oggi è tutto e anche oggi ci siamo portati a casa la nostra vittoria quotidiana giusto? giusto quindi niente raga ci vediamo alla prossima direi grazie per essere stati con me in questa giornata che cazzo raga io non so mai come chiudere questi video niente ci sentiamo alla prossima bella raga bella raga